Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. E' la nostra umanità che prende il sopravvento, è la nostra vita terrena, ma noi siamo stati resi capaci di vivere da beati. Ci è stato dato lo Spirito Santo per avere la forza di realizzare i progetti di Dio Padre, di mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù e ciò significa vivere il Vangelo. In verità, in verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Lo Spirito Santo ci è stato dato anche per discernere chi sono gli inviati di Gesù che dobbiamo accogliere, capire chi viene davvero nel nome di Gesù. Tantissima gente di fede, gente semplice, continua a cadere nelle trappole, nei tranelli di chi non è stato inviato da Gesù. La bontà della gente o la necessità di trovare qualcuno che li assicuri, che li aiuti, li guidi, spesso rende incapace di guardare l'evidenza. Preghiamo tanto, invochiamo spesso lo Spirito Santo, facciamoci aiutare da chi prega con e nella Chiesa, da chi oltre ad essere una persona di preghiera è anche in linea con l'insegnamento della Chiesa e vive i valori evangelici. Preghiamo Gesù attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria tua e nostra madre. Amen.